Buongiorno, sono Laura Antichi, vi presento una semplice applicazione in VR che si chiama Speak2Go. Quando usare Speak2Go? Per esperienze di esplorazione semplici ed intuitive, quando si vogliono visitare e mostrare luoghi, per anticipare quello che si può vedere in un viaggio di istruzione o semplicemente per vivere delle piccole esperienze 360 gradi VR. Il Speak2Go fa parte degli esperimenti VR in Google Chrome e il funzionamento è specifico per piattaforme Daydream e Cardboard utilizzando gli auricolari. In questo utilizzo il risultato di esplorazione è più raffinato sotto il profilo visivo e audio. Tuttavia, l'app Speak2Go può essere fruita con risultati discreti da browser attraverso PC usando il microfono. Adesso andiamo ad esplorare e a vedere l'applicazione. In browser Chrome ci collegheremo a speak2go.withgoogle.com Abbiamo due possibilità di usare gli auricolari o di non usarli. Noi naturalmente scegliamo qui la prima ipotesi che è Try it without headset. Ci troveremo in un'interfaccia e basterà cliccare sulla barra spaziatrice per fare una ricerca del luogo da noi a scelto usando il microfono. Quindi io clicco Try it without headset. Mantua, camera degli sposi. Ecco, come vedete la ricerca è andata a buon fine e mi dà la possibilità di esplorare, in questo caso, la camera degli sposi del palazzo ducale di Mantua. Può essere utilissima per analizzare, ad esempio, tutti gli affreschi che sono presenti nella camera degli sposi. Quindi porta anche a un'analisi, non solo una visione così emozionante in 3D, ma anche all'analisi di quelle che possono essere le opere pittoriche di un luogo, dei luoghi. Tuttavia voglio anche presentarvi la possibilità di utilizzare dei dispositivi VR per realtà aumentata. Questo ci dice di selezionare l'auricolare che è interessante per noi, se l'abbiamo a disposizione. Come vedete vi spiega anche questo sito, che cos'è il web VR, che vi dice che è possibile fare esperienze nel vostro browser di realtà virtuale. Usando, in questo caso, un asset che sia compatibile con il browser. Arrivederci.